Finalmente arrivano il quasi completamento del Fast Perfect Order che il CR aveva lanciato ormai forse più di 25 anni fa. Stiamo cercando di fare la fattura corretta da sempre. Va benissimo questo processo, però ci sono ancora tantissimi esempi di prezzi sbagliati. Benvenga Delivering, benvenga il DesaDV, noi siamo pronti. Raccontaci che cosa siete disposti a fare voi e che cosa, Anna Tropparente per lavorare bene, chiedete invece. Allora, io chiedo di avere l'ordine, il DesaDV, Muller lo dà solo se riceve l'ordine via DI e riceve RHDV. In questo momento, tanto per essere chiari, non siamo strutturati per ricevere RHDV, ecco uno dei grossi ostacoli culturali di cui abbiamo parlato. Siamo sede secondaria, non è semplicissimo portare avanti i progetti in contesti informatici europei, però secondo me è facile dimostrare che l'investimento si ripaga in termini abbastanza veloci. Quanti documenti è alla fine all'anno maneggiato? Stiamo parlando di 55.000 DDT, salviamo un sacco di note di credito, quindi mi reputo discreto nel fare le fatture corrette già la prima volta. Se ricevessimo il DesaDV con l'ordine sarebbe veramente un passo avanti apprezzato da tutti quanti. Quando tu guardi a progetti di questo genere, che sensazione hai circa esattamente poi la ripartizione del valore? Bisognerebbe fare innanzitutto un'autocritica da parte di chi giustisce la supply chain perché non è mai stato in grado, non ha mai avuto la voglia, non ha mai avuto la possibilità, non ha mai avuto la capacità, diciamola come vogliamo, di incontrare l'omologo nel distributore. Qual è l'atteggiamento del trasportatore? La mia esperienza è che forse lì ci sono le resistenze culturali più grosse. Bisogna cercare anche di capire un attimino chi c'è sul camion, cosa viene chiesto, cosa è in grado di fare, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi metto nei panni dell'autista che parte con 10, 20, 30, 40 mittenti per un unico destinatario e ha solo la metà delle bolle. Se c'è un problema con la merce di Muller che è stata anticipata con il desadivi, capisco la paura dell'autista o del vettore del trasportatore di trovarsi un giorno un addebito per merce rotta di cui non era conoscenza. C'è ampia casistica, discreta bibliografia su bolle che dopo un anno, due anni, tre anni vengono richieste e non si trovano. Fatalità spesso sono quelle che non ci sono, quindi qualche brutto pensiero si può fare. I vettori volutamente non sono nemmeno mai stati portati nelle discussioni tra chi vende e chi compra. Finalmente ad uno stesso tavolo si sono messi sia produttori che distributori, si sono confrontate le varie opinioni, le varie esperienze in modo aperto, costruttivo e credo che ci siano anche degli ottimi risultati, delle prospettive concrete per arrivare a qualcosa di reale.